Oggi vi presentiamo una serie di forbici per manicure e pedicure, tutte made in Italy, artigianali, fatte in una località della Valsassi, nella provincia di Lecco, che si chiama Premara. Questa prima serie di forbici è tutta in acciaio inox, quindi non si forma assolutamente ossido, perciò non si arruginiscolo, e sono perfette e precise nel taglio. Questa seconda serie, invece, è di forbici in acciaio nichelato con finitura lucida. Questa seconda serie, invece, è di forbici in acciaio nichelato con finitura lucida. Queste sono forbici, sempre in acciaio inox, professionali per parrucchieri. Iniziamo a vedere una a una la tipologia. Queste sono quelle in acciaio inox, le più fine in assoluto per pellicine, proprio specifiche per le pellicine. La punta è molto fine e viene usata proprio per le pellicine. Queste sono leggermente più grosse, ma vengono comunque considerate di forbici a punta fine. Tutte marchiate made in Italy, inox, marchio comune di Premana. Queste sono adatte per le unghie delle mani. In questo modello si tratta di forbici un pochino più grosse, che vanno bene sia per le unghie delle mani che per quelle dei piedi. Queste invece sono forbici dette a lancia, adatte in particolare per le unghie delle mani e la punta così fine anche per le unghie incarnite. Queste un pochino più grandi sono per le unghie dei piedi, quindi per unghie un po' più robuste, in particolare unghie incarnite. Qui vediamo invece delle forbici un po' più grosse per le unghie dei piedi, in particolare dei piedi. Queste forbici a lama corta sono proprio adatte per le unghie dei piedi molto robuste. La lama corta permette una forza di taglio molto maggiore. Queste sono forbici un pochino più grosse rispetto a quelle che abbiamo visto prima, sempre per unghie dei piedi robuste. Qui abbiamo le due misure dello stesso modello. Queste sono forbici con la punta rotonda, specifiche per bambini, peli del naso, peli delle orecchie, per evitare di farsi male. Questo invece è un modello di forbici piatte. Le lame sono piatte, non arrotondate come tutte quelle che abbiamo visto prima adesso, ma completamente piatte. E anche queste sono molto robuste e vengono usate in particolare per unghie di magico. Queste invece sono forbici specifiche per i baffi e la barba. Una delle due lame, come vediamo adesso con una lente di ingrandimento, è zigrenata, ha una dentellatura che permette al pelo di non scivolare nel momento in cui si passa l'altra lama sopra. Quindi durante il taglio il pelo non scivola e viene perfetto. Queste sono classiche forbici da parrucchiere. con l'apposito fermadito che è avvitato, quindi si può eventualmente anche togliere. Queste invece sono forbici professionali per sfoltire i capelli. che troppo da parrucchiere. Alla prossima! Questa invece è la serie di forbici sempre per maniture e pelliture in acciaio nichelato con finitura lucida. Anche qui partiamo dal modello per pellicine, forbici proprio specifiche per pellicine molto fine. Anche qui sono le forbici per le unghie delle mani. Un pochino più grandi per le unghie di mani e piedi. Queste alancia sono per le unghie incarnite delle mani in particolare, ma si possono usare anche come normali cordici. E' chiaramente arrotondate proprio per che l'inclinazione delle mani può seguire la forma del dito. Questo è sempre all'ancia per le unghie incarnite dei figli. Questo modello con lame piuttosto grosse serve per le unghie robuste dei piedi. Questo modello con lame piuttosto grosse serve per le unghie robuste dei piedi. Questo è un taglio per unghie dei piedi molto robuste. Questo modello ha le lame completamente piante. Questo modello ha le punte arrotondate. Per evitare di farsi male quando si trattano delle parti del cane. Questo modello con lame piuttosto grosse per le unghie. Questo modello sull'anima piuttosto grande. Potrebbero essere usati per i peli del naso, delle orecchie, delle unghie dei bambini. Queste hanno invece le punte proprio rotonde, sempre per parti delicate. Peli del naso, peli delle orecchie, unghie dei bambini. per oggi ci fermiamo qui grazie per l'attenzione vi proporremo altri prodotti sempre artigianali made in Italy Premana